Ecco, il titolo del vostro intervento è Le mode passano, l'azionario rimane. Ma è così? Sì, Alexa, grazie per la domanda e grazie a tutti per essere qua oggi. Devo dire che quando Leopoldo mi ha raccontato la giornata ero molto contento di farne parte. Mi ha chiesto di parlare di equity. Ero pronto a parlare di sostenibilità, di tecnologia, di private markets. Mi ha detto, Luca, parla di equity verso la fine. Ho detto, va bene, vediamo come va. Ma ho cercato di portarvi dei numeri riguardo a quello che fate. Come sapete, è un po' anche il nostro modus operandi. Quindi vi racconto un po' di voi e vi racconto come sta reagendo anche la nostra industria, quello che sta accadendo. E se guardiamo i numeri di Assoretti, ne abbiamo commentati prima, secondo anno di sempre, quello del 2022, 44 miliardi, quasi 45. In realtà, se guardiamo un po' la composizione della raccolta, questo possiamo prendere più o meno un consulente medio, sono circa 20.000 quelli attivi, raccolto 44 miliardi, sono circa 2 milioni più o meno a testa in media. Ecco, ma come si è divisa questa raccolta? Allora, fondi sicuramente importanti, rimangono comunque una buona parte da raccolta. Unitlink, Gianmaria e Tommaso non hanno appena parlato, perché sono sicuramente un'area su cui i consulenti continuano a investire per i loro clienti. Poi c'è la componente di gestioni patrimoniali, che continua a crescere. A destra trovate il cumulato degli ultimi cinque anni. In cinque anni sono più di 200 miliardi raccolti da Assoretti. Devo dire, ripeto, vederlo dal vivo, dai manager, gli amministratori delegati, di queste realtà ci fa capire quant'è poi la potenza della consulenza. Quindi questo è sicuramente importante. Le polizieramo prima un po' meno l'anno scorso. Se guardiamo anche il mondo dell'amministrato puro etf, ce ne sono di più all'interno dei veicoli meno in amministrato puro. E poi c'è Securities, che l'anno scorso come singoli titoli, obbligazioni, BTP, certificati, siamo quasi alla metà, 24 miliardi. Quindi già vedete come sta cambiando un pochettino la composizione. Liquidità e poi la componente dei fondi pensioni. Allora già guardando questa slide, gli ultimi cinque anni le reti hanno raccolto, sono cresciute, è cambiato un pochettino il mix.